Parliamo un po' dell'esperienza di CertiQuality, ovviamente sotto il profilo dell'efficientamento energetico. Sì, CertiQuality è un organismo di certificazione, come tale opera nel settore dell'energia sia per la certificazione delle competenze delle persone, quindi esperti di gestione dell'energia, e sia anche per i sistemi di gestione che le aziende possono implementare per migliorare le loro performance energetiche. Parlerete di qualche esperienza in particolare qui ad EnergyMed? Noi abbiamo esperienze diversificate, sia nel mondo civile che nel mondo industriale ci sono imprese che adottano modelli di gestione dell'energia basati su una norma che è 50.001, una norma ISO. Abbiamo esperienze sia nel campo chimico, dei trasporti, della sanità, esperienze in campo di manifattura in generale, nel manifatturiero, e l'esperienza anche nel campo civile, quindi organizzazioni che erogano servizi, che hanno un contenuto significativo, contenuti di utilizzo di energia. In Campania a che punto siamo sotto questo punto di vista? Noi non siamo fanavino di coda, non siamo fanavino di coda. La Campania forse perché parte da situazioni di impianti industriali che hanno ricevuto anche contribuzioni notevoli per la variabilizzazione, diciamo che molti impianti industriali e molte imprese che erano servizi hanno già avviato dei processi virtuosi per quanto riguarda l'utilizzo dell'energia. Chiaramente c'è sempre da fare, il miglioramento continuo è uno dei obiettivi, è uno dei must dei sistemi di gestione, però credo che la Campania sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista organizzativo esprima in questo momento anche delle eccellenze. Chiaramente c'è il miglioramento continuo,